Mi sono fatto male Chi riscritti eccoci in questa nuova buttata di Bryson L'è bisogno che ormai ho perso il numero Ehm, aspettate, ho lasciato il telefono Sul letto, un attimo eh Con calma, con calma, ecco Eccolo qui, perché mi serve il telefono No, sono perso, non ho perso Allora, perché mi serve il telefono Praticamente ho visto appena entrando Vediamo se c'è Sì qua, agli update Infatta Che cosa sto dicendo non lo so manco io Comunque questo qui è un video pre-registrato Quindi se qualcuno mi ha fatto una domanda Nel momento, prima che carico questo video Mi dispiace ma non ho potuto rispondere Questo è un messaggio video registrato Per tutte le persone che lo stanno ascoltando E seguire un messaggio vocale dopo il beep Comunque, gli update Che sono stati eseguiti nel server sono Ogni 3000 blocchi ci verrà data una runcap case Similar a quelle là quando fate slash runcap uguale E ogni 10.000 blocchi Quindi roba da niente Ehi, eh Ok, sono appariti E ogni 10.000 blocchi un escape isplast Quindi Gesù dove sei Perfetto, ok Poi, intanto vedete qui il bilancio mio È diventato 29.000 Non lo so neanche io come alla fine Però Sì, ok Ve lo faccio vedere Faccio prima Praticamente ho allestito questa cosa Che facendo PH Quindi vi trasporterà alla home Del vostro lotto Vedete Fate così Fate così Se volete settarla Se volete settarla basta fare o set home o S Allo stesso modo per andare a casa e home o H Qui ci sono tutti i giochi Ho messo le regole Adesso ve li faccio vedere tutti Intanto qui vedete i prezzi Non ve li sto neanche a dire Adesso li andiamo a vedere E qui sono bloccato Ok, così Qui ci sta la parte per gli admin Che attualmente siamo io e Leonardo Barra Smooth Play Oaks Qui ci sta il tiro con l'arco Perché Smooth Play Oaks ha voluto fare una prova Mi ha spiegato una freccia Non funziona Qui ogni stage costa Ad esempio C'è vi da i diversi premi Ad esempio quello lì vi da 400 Quello qui avanti vi da 2 dollari Anche perché se tu colpisci un coso da qui E non ci riesci Sei abbastanza subito Poi qui ho cresciuto un mega albero E c'ho un mega albero Poi qui volevo fare lo shop Ma Con calma Devo ancora aspettare L'unica cosa è c'ho pure un mega albero Ok Però non so Non ho più paura Perfetto Poi qui c'è il parkour Non è Scusa quanto Difficile Però Ha il suo di che E poi ci ho messo i checkpoint Infatti Che Questo costa 2000 Poi c'è quest'altro Scusate piccola interrezione momentanea Fuori servizio Questo quindi il parkour Ci ho messo qui anche quella cosa Delle scale Girandola Girovoltella Qui ci stanno tutti i checkpoint L'altro sta Checkpoint Questo è il checkpoint Anche questo è il checkpoint Anche quello E quello lì costa 4000 Ed è il checkpoint Non mi ricordo di cosa Però vedete costa 4000 Vabbè C'ho il fiatone Non mi chiedete perché Ma questa qui è la parte più difficile Che io non ci sono riuscito manco Se Mi avrebbero pagato Che in realtà Non si dice così in italiano Però fa niente Manco se mi avessero pagato 74 milioni Anzi Forse pure pure Però non ci sono riuscito Grazie La mia proprietà Che io troppo difficile Che lì poi ci sta una fence Che non si capisce neanche a cosa serve E qui c'è l'altro checkpoint Che costa 7000 Uno me l'ha pagato Ah mi ha pagato Quello iniziale E poi quello da 2000 4000 e 7000 Ma che ne so Boh Si è aperta la porta Comunque qui l'arco Qui il parkour Quello lì è la fine E gli devo pagare tipo 4000 Ecco Guardate Quando fate bid Non fatelo bid Non serve a niente bid Ok Poi Soprattutto In questo episodio È un episodio così veloce Come faccio il rank up Volevo ringraziare Intanto volevo ringraziare Snoop Leox Per non essere stato presente In questa puntata Grazie Snoop Poi volevo ringraziare Mejana Che si scrive Mejana Mejana Che era una Che stava a rank A È venuta da me Io ho dato un paio di kit Cose e quant'altro Mi ha ringraziato Strano Cioè La maleducazione Proprio non ha limiti In questo momento Però va bene Intanto Se l'ha dire che ho bisogno Del bagno Il bagno sta lì dietro E Gli ho dato un po' di roba Un po' di soldi Ero miliardario Ce ne avevo 40.000 Mi hanno avruttato 5.000 Si hanno In cui si è fatta E ranca Ok Ho sistemato il lag Oddio mica tanto Però vabbè fa niente Facciamo questo benedettissimo Rank up Rank up Ecco appunto Ho detto che stava a lag Dai Sono arrancato A F Adesso devo pagare Per la prossima cosa 50.000 Che bello Intanto andiamo a warp Create E andiamo ad aprire Questa Cosa E non sto laggando io Ma sto laggando la mia voce Quindi pam Ho letto veramente Quello che ho trovato Sharp rest 5 respiration 3 Grazie Gesù Grazie Grazie No no Grazie Scusa Scusa Vabbè Ok Basta Poi Intanto voglio andare Un'altra volta Al warp Ciao cane Andiamo alla F F Cosa si trova All' F Cioè Niente A parte Tutta questa neve Che posso spaccare In un millisecondo Con la mia Super palla di neve Super palla di neve Esistono delle palle Fatte di neve What? Ok ragazzi Mi serve il dizionario A me Richie Splash HD Italiano Italiano Richie Splash HD Fatemelo eh Poi lo inviate la crusca Che magari inserisci quelle parole All'interno del dizionario Italiano Però no Eh no Non possono Perché devono fare La traduzione Ma non è che Essendo mo Astorank La neve Costa di più Cioè Vari di più Giusto per dire Una cavolata così Uh Neve gratis Grazie Cioè Neve Mazza Ho già finito Quindi se Lasciamo Mamma mia Vabbè A parte Me ne avrebbero ridate Selselselsel Selselsel Mamma mia Regà Ci facci i money Ci facci i money Questo era Money Ma ho 216 What? Solo? Ecco una cosa che non sopporto è che tipo quando qualcuno ti dà soldi Guadagni dei soldi non te lo dà subito Ah Che bello Ecco bello Ora me l'ha dato Vabbè Sto piccone raga intanto è una bestia È il piccone OP plus Tipo ti dura 4 anni E ti basta un diamante No scherzo ti basta qualche diamante per Ripristinarlo al suo stato originario Comunque se vi è piaciuto lasciate un like commentate iscrivetevi Scusate se questo video è stato un po' troppo Corto rispetto agli altri che carico Ma purtroppo quando vedrete questo video Io sarò su a Torino Seguitemi su Telegram Lì ci saranno foto del viaggio di Torino Eventualmente di danni che facciamo su a Torino Per fortuna paghiamo la cauzione Anche se non so se 20 euro basteranno Per me Snoop Anche perché 4 giorni Considerate che facciamo un danno al giorno Più altre 2 la sera Più un altro la notte Che però una notte non dormiamo Andiamo in giro Magari in discoteca Ehm Sì mi sa che dovrò pagare Sborciare 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 raga Un altro termine da aggiungere al dizionario Richie Splash HD Italiano Italiano Richie Splash HD Comunque se vi è piaciuto lasciatevi Iscrivetevi Non riesco manco a dire la Autromia E ci vediamo Alla prossima puntata Ciao ciao Non arrivo al tasto per Bloccare Ciao Bloccare 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 Bloccare